1 luglio. Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo. Anno liturgico, rito antico. Scopo della festa. La Chiesa ha già rivelato ai figli della Nuova Alleanza il valore del sangue dal quale furono riscattati la sua virtù nutritiva e gli onori dell'adorazione che esso merita. Il venerdì santo la terra e i cieli videro tutti i peccati immersi nel fiume della salvezza le cui eterne dighe si erano infine rotte sotto la pressione associata della violenza degli uomini e dell'amore del cuore divino. La festa del Santissimo Sacramento ci ha visti prostrati davanti agli altari in cui si perpetua l'immolazione del calvario e l'effusione del sangue prezioso divenuto la bevanda degli umili e l'oggetto degli omaggi dei potenti di questo mondo. Oggi tuttavia la Chiesa invita nuovamente i cristiani a celebrare i flutti che si effondono dalla sacra sorgente. Che altro significa ciò se non che le solennità precedenti non ne hanno certamente esaurito il mistero? La pace ottenuta da quel sangue, lo scorrere delle sue onde che riportano dagli abissi i figli di Adamo purificati? La sacra menza imbandita per essi e quel calice di cui esso costituisce inebriante liquore? Tutti questi preparativi sarebbero senza scopo. Tutte queste meraviglie resterebbero incomprese se l'uomo non vi scorgesse le proposte di un amore le cui esigenze non vogliono essere sorpassate dalle esigenze di nessun altro amore. Il sangue di Gesù deve essere per noi in quest'ora il sangue del testamento, il pegno dell'alleanza che Dio ci propone, la dote costituita dall'eterna sapienza che invita gli uomini a quella divina unione di cui lo spirito di santità procura senza fine, il compimento nelle nostre anime. Virtù del sangue di Gesù Avendo dunque, o fratelli, ci dice l'Apostolo, in virtù del sangue di Cristo, la fiducia di entrare nel Santo dei Santi per la via nuova e vivente che Egli inaugura per noi attraverso il velo, cioè attraverso la sua carne, accostiamoci con cuore sincero, con la pienezza della fede, purificato il cuore dalla cattiva coscienza, col corpo lavato dall'acqua pura. Conserviamo senza vacillare la professione della nostra speranza, essendo fedele chi ha promesso e vigiliamoci a vicenda per stimolarci alla carità e alle opere buone. È il Dio della pace, il quale ha tolto alla morte nostro Signore Gesù Cristo, vi renda capaci d'ogni bene, in modo che voi facciate la sua volontà, mentre Egli opera in voi ciò che gli è grato per Gesù Cristo, cui sia gloria nei secoli dei secoli. Storia della festa Non dobbiamo mettere di ricordare qui che questa festa è il memoriale di una tra le più splendide vittorie della Chiesa. Pio IX era stato scacciato da Roma nel 1848 dalla Rivoluzione Trionfante. In quegli stessi giorni, l'anno seguente, egli vedeva ristabilito il suo potere. Il 28, 29 e 30 giugno, sotto legida degli Apostoli, la figlia primogenita della Chiesa, fedele al suo glorioso passato, cacciava i nemici dalle mura della città eterna. Il 2 luglio, festa di Maria, terminava la conquista. Subito un duplice decreto notificava la città e al mondo la gratitudine del pontefice e il modo in cui egli intendeva perpetuare, mediante la sacra liturgia, il ricordo di quegli eventi. Il 10 agosto, da Gaeta, luogo del suo rifugio durante la burrasca, Pio IX, prima di tornare a riprendere il governo dei suoi stati, si rivolgeva al capo invisibile della Chiesa e gliela affidava con l'istituzione dell'oderna festa, ricordandogli che per quella Chiesa egli aveva versato tutto il suo sangue. Poco dopo, rientrato nella capitale, si rivolgeva a Maria, come avevano fatto in altre circostanze, San Pio V e Pio VII. Il vicario dell'uomo Dio attribuiva a colei che è l'aiuto dei cristiani l'onore della vittoria riportata nel giorno della sua gloriosa visitazione e stabiliva che la festa del 2 luglio fosse elevata dal rito doppio maggiore a quello di seconda classe per tutte le Chiese, preludio alla definizione del dogma dell'immacolata concezione che l'immortale pontefice fin dall'ora aveva in mente che doveva schiacciare ancor più il capo del serpente. Poi nel corso del giubileo indetto nel 1933 per commemorare il diciannovesimo centenario della redenzione, Papa Pio XI onde imprimere maggiormente nell'animo dei fedeli ricordo e la venerazione del sangue del divino agnello e per invocarne sulle anime nostre frutti più abbondanti elevò la festa del preziosissimo sangue al rito doppio di prima classe. Messa, Epistola, Ebrei 9, 11-15. Fratelli, Cristo, venuto come sommo sacerdote di beni futuri attraverso una tenda più grande e più perfetta non costruita da mano di uomo cioè non appartenente a questa creazione non con sangue di capri di vitelli ma con il proprio sangue entrò una volta per sempre nel santuario procurandoci così una redenzione eterna. Infatti se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsi su quelli che sono contaminati li santificano purificandoli nella carne quanto più il sangue di Cristo che con uno spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio purificherà la nostra coscienza dalla opera a morte per servire il Dio vivente? Per questo Egli è mediatore di una nuova alleanza perché essendo ormai intervenuta la sua morte per la redenzione delle colpe commesse sotto la prima alleanza coloro che sono stati chiamati ricevono l'eredità eterna che è stata promessa. Il sangue del pontefice. È legge stabilita da Dio fin dal principio che non vi può essere rimissione dei peccati né piena redenzione senza un sacrificio di espiazione e di riparazione e che tale sacrificio esige l'effusione del sangue. Nell'antica alleanza il sangue richiesto era solo quello degli animali immolati davanti al tabernacolo del tempio. Se esso bastava dare una purezza esteriore era però impotente a santificare le anime e a far entrare nel tabernacolo celeste. Ma nel giorno stabilito dalla divina sapienza è venuto Cristo nostro vero e unico pontefice che ha versato come sacrificio il suo preziosissimo sangue. Con esso ci ha purificati ed è in virtù di quel sangue versato che Egli entra e fa entrare nel santuario del cielo. Da quel momento la sua espiazione e la nostra redenzione sono cosa acquisita definitivamente per l'eternità. Il suo sangue, veicolo della sua vita, purifica non soltanto il nostro corpo ma la nostra stessa anima, il centro della nostra vita, distrugge in noi le opere di peccato, espia, riconcilia, sigilla e consacra la nuova alleanza e, una volta purificati, una volta riconciliati, ci fa adorare e servire Dio mediante un culto degno di Lui. Il servizio del Dio vivo Infatti il fine della vita è quello di adorare Dio. La stessa purezza della coscienza e la santità hanno come ultimo disegno, come termine, il culto che rendiamo a Dio. Non si è belli per essere belli, non si è puri per essere puri e non andare oltre. Qualunque bellezza soprannaturale è ordinata in definitiva all'adorazione. È appunto quanto vuole il Padre Celeste, degli adoratori in spirito e verità e la nostra adorazione cresce davanti a Dio insieme con la nostra bellezza e la nostra dignità soprannaturale. Così, il termine della nostra vita soprannaturale non siamo noi, bensì Dio. È Dio che, in ultima analisi, raccoglie il beneficio di quanto noi diventiamo gradualmente, mediante la Sua grazia e sotto la Sua mano. Dio in noi opera per noi. Tutta la nostra vita, quella dell'eternità e quella del tempo, è liturgica e ordinata a Dio. Vangelo Giovanni 19, 30-35 In quel tempo, dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse, tutto è compiuto e chinato il capo spirò. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro, che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Il sangue del cuore di Gesù Nel Venerdì Santo abbiamo inteso per la prima volta questo passo del discepolo prediletto, dolente ai piedi della croce su cui era appena aspirato il Signore. La Chiesa non aveva allora abbastanza lamenti e lacrime. Oggi trassalisce di altri sentimenti e lo stesso racconto che le cagionava il pianto la fa esplodere nelle sue antifone in gioia e in canti di trionfo. Se vogliamo conoscerne la ragione, chiediamola agli interpreti autorizzati che essa stessa ha voluto incaricare di mostrarci il suo pensiero in questo giorno. Essi ci insegneranno che la nuova Eva celebra oggi la sua nascita dal costato dello sposo immerso nel sonno, che a partire dal momento solenne in cui il nuovo Adamo permette al soldato di aprirgli il cuore, noi siamo veramente diventati l'osso delle sue ossa e la carne della sua carne. Non stupiamo dunque se da allora in poi la Chiesa non vede più altro che amore e vita in quel sangue che si effonde. E tu, o anima, così a lungo ribelle e tocchi segreti delle grazie di elezione, non desolarti, non dire l'amore non è più per me. Per quanto lontano abbia potuto portarti l'antico nemico con i suoi funesti inganni, non è forse vero che non vi è traviamento, non vi è abisso, si può dire, in cui non ti abbiano seguita i rivi scaturiti dalla sacra sorgente. Credi dunque che il lungo percorso che hai voluto imporre al loro misericordioso inseguimento ne abbia esaurita la virtù, fanne la prova e anzitutto bagnati in quelle onde purificatrici, quindi abbevera a lunghi sorsi al fiume di vita quella povera anima affaticata e infine armandoti di fede risale il corso del fiume divino, poiché se è certo che per giungere fino a te non si è separato dal suo punto di partenza, è ugualmente certo che, così facendo, ritroverai la sorgente stessa.